ciao a tutti nuovo video per le creazioni in resina ecco qui allora intanto fatto questi orecchini che sono disuguali così con la resina e brillantini blu e rossa rosa scusate e l'orecchina clip di dietro vedete si apre perché non metti a fuoco eccoli qua incollati tutti quanti con la superatta che i prossimi ci metterò la resina addirittura quindi bello steffetto rosato così e glitter davanti ecco di questo qua è un orecchino poi due anelli così a cuore uno è più piccolo dorato e un altro è più grosso o cosa c'è qua dietro no niente ecco qua metti a fuoco sono a base regolabile vedete vanno dappertutto questo al contrario video videocamera girata così andiamo eccoli qua se non guardate le mie mani perché sono brutte come la padrona quindi ecco qua metti a fuoco si lo messo sempre al contrario metti a fuoco faccia le scatole oggi capisco che cosa c'è cos'è dunque questi qua adesso vedrò e li metterò in vendita sul mio etsy shop se siete interessati potete contattarmi ecco qua poi avevo fatto queste però il sono solo degli esperimenti per vedere i nuovi stampi allora questo mamma mia ho un po paura a tirarlo fuori vabbè ma casomai si può anche rifare quest'altro un esperimento che ho fatto con una margherita dentro però già non mi piace perché se la ma la margherita si è fatta tutta gialla poi guardate questi cuori iniziamo da questi va di cui ne farò ancora sempre degli anelli vediamo se non sono venuti opachi anelli e comunque capo shon questi quali dovrò limare in tutto intorno eccolo qua eh sì con questo pigmento non mi dispiacciono proprio belli guardate uno sono tutti uguali però li limerò mamma mia sono diselestica oggi qua che cosa è successo c'era un pizzichino di colla siliconica questo altro sono tutti uguali quindi vi ripeto verranno dei cabochon no c'è venuta una bolla qui no è bagnato oh no c'è venuta la bolla qui oh bestia questo è rovinato ma fa un bagno fa un bagno bollicine del cavolo questo invece è bello eccolo poi ho fatto anche questi però non so come sono venuti perché non so quanta quanta resina sono profondi vedete anche questi sono con lo stesso pigmento perché altro al momento non avevo oh però guardate com'è bella sfumata così questa rosa sì sì ci piace mi piace mi piace opla oila o la margherita dovrebbe essere questa oila questa è bella wow sì sì con questo pigmento un po' trasparente un'altra rosa questo qui lo so già che è venuto un fail perché erano era la resina di scarto però insomma l'idea non era malaccio ma via va comunque via adesso poi pulirò gli stampi wow non mi immaginavo che fosse è tosto dire fuori vedete questo ecco qua e questo qua oh mio dio ma ho paura no perché questa è la margherita che c'era dentro se sarà ragglinzita però è un esperimento eh oh la la oh mio dio è venuto frastagliato devo sistemare lo stampo no mi vuolta una schifezzuola anche questo qui mamma mia se può guardare via come mai è venuto così appa dobbiamo rifarlo devo rifarlo sì devo rifarlo e soprattutto devo mettere a posto lo stampo perché questo qua l'avevo fatto io il primo che facevo dopo vedrò di metterlo a posto questo mio dio ho un po' paura del colore del muso vediamo wow non mi dispiace affatto invece è da mettere a posto ma non mi dispiace veramente affatto anche perché l'unicorno è un animaletto di fantasia non mi dispiace affatto guardate qua sì ci piace mi piace mi piace dopo lo metto tutto a posto e mi piace questo qua lo metterò appeso su una cover adesso vediamo devo prima sistemare tutti i bordi per bene ma ma piace ma piace ma piace eh sì questo qua sono rimasto deluso niente dovrò uccidere qualche altra margherita e rifarlo ecco ammazziamo le margherite e siamo a posto siamo veramente a posto giusto? ecco intanto vi faccio vedere se le trovo sì se le trovo le due cover che avevo preso allora volevo decorare le cover un poco come ho fatto con la mia questa qua vedete che ha su lo stesso cuore di resina gemello di quello allora me ne sono presa una per l'S6 se ne volete qualcuna decorata fatemelo fatemelo sapere le metterò in vendita sul mio eZshop e poi vedrò come mettere i link e ci vediamo anche su facebook e questa qua invece l'ho presa per l'iPhone 7 e insomma vedrò come decorarla tema contate che dopo verrà anche con tutto l'effetto panna un po' disastrato così e la creazione diciamo messa in questo modo per dire tanto per per rendere un attimino l'idea di come potrebbe venire a seconda del pallino che ho sul momento dunque allora per adesso vi ringrazio insomma mi piace sì 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 oh yes va bene va bene va bene va bene mi raccomando iscrivetevi al canale diventate miei clienti ovviamente se non vi faccio più i video va bene scherzo ovviamente vi ringrazio ciao ciao a tutti ciao bello bello adesso lo pubblico